buongiorno buongiorno lo so non è facile il giorno dopo apro un po la portiera così resta un po di luce nell'abitacolo non è facile il giorno dopo quella che è stata considerata una occasione mancata una grande occasione mancata da juventus sì perché lo è stata in effetti lo è stata c'era la possibilità per i bianconeri di arrivare a due punti dal napoli adesso i punti sono cinque mi fanno notare alcuni commenti di tifosi napoletani che sono sei è vero perché in caso di arrivo a pari punti il napoli avrebbe la prevalenza negli scontri diretti avendo vinto la partita di andata e pareggiato quella di ritorno non che ci sia molta differenza rispetto a quanto vi ho detto ieri in quello che ho ricavato da questa partita ho ricavato che chiaramente una juve che ha dei grossi limiti limiti strutturali come vi ho già detto anche in altre occasioni che una juve che inevitabilmente quando la siccella dell'avversario si alza evidenzia ulteriormente questi limiti ed è una juve che è vero va molto sull'improvvisazione e meno sul ragionamento per dirla breve rispetto ad altre squadre non ha schemi di gioco consolidati ma si fonda molto sull'improvvisazione che è una caratteristica importante se si hanno grandi giocatori in grado di improvvisare quando ne hai un po' meno comincia a diventare o può diventare un limite nei confronti di squadre che magari tecnicamente in quel momento sono un po' inferiori ma vanno a sopperire con quella situazione questo fa parte dei credo tattici filosofici dei vari allenatori penso di poter dire in questo momento per la juve di allegri questa situazione paga meno di quanto non pagasse con una juve diversa con una juve forse più forte che era quella della sua precedente gestione ma questa è la filosofia di questo allenatore che con questa filosofia ha vinto tanto e che adesso però ha la pecca adesso faccio piovere grandinare nevicare e faccio eruttare i vulcani di ripetere da 20 giornate le stesse cose ossia ci vuole equilibrio ci vuole pazienza c'è troppa frenesia quando specialmente quando si passa in svantaggio frenesia di voler recuperare e allora sorge la domanda o l'allenatore non riesce a farsi capire oppure i giocatori non capiscono il fatto è che dopo una due tre quattro cinque giornate lo puoi comprendere dopo dieci sì ancora dopo quindici comincia a solcere il naso dopo venti fai fatica a comprendere che si sentano ripetere le stesse cose si sentano ripetere le stesse cose bisogna migliorare negli ultimi venti metri non bisogna portare palla bisogna scaricarla sull'avversario sul compagno meglio piazzato errori nei passaggi errori nei fraseggi errori nell'ultima soluzione aggiungiamoci errori nei tiri in porta perché insomma questo è un altro fatto endemico di questa squadra solo che qui a furia di parlare così la juve come le altre squadre non tutte perché alcune partite devono essere recuperate appunto è arrivata la ventesima partita stagionale se poi l'obiettivo rimane quello minimo di centrare uno dei primi quattro posti allora la ritmetica lo consente ancora ampiamente molto ampiamente se gli obiettivi dovevano essere altri allora qua si entra in un altro tipo di discorso che investe la struttura stessa della squadra che forse non è in grado di garantire determinate soluzioni e allora determinate soluzioni modestissimo parere andrebbero cercate attraverso altre vie altre strade voi mi dite quella del gioco si può essere quella dello schema quella del gioco a memoria può anche essere manca la controprova perché la juve non gioca così ma anche non giocando così in passato ha vinto tantissimo lo so che mi sto buttando a capofito in un discorso molto ampio molto vasto o forse anche molto semplice perché a volte la vastità e l'ampiezza si risolvono con poche parole o si perlustrano con poche parole questa però è la juve di adesso questa è la juve di adesso e credo che in questo momento ci sia poco tempo e spazio per impostare una juve diversa una juve che gioca per esempio come ha fatto vedere il napoli ieri squadra ordinata squadra nella quale ognuno sapeva cosa doveva fare col pallone anche prima di riceverlo adesso è tardi adesso è tardi e non credo che allegri non sia capace di far giocare la juve così non credo lui si affida alle caratteristiche dei singoli per lui prevale la caratteristica del singolo e allora da lì si crea lo spunto per impostare il proprio gioco ripeto non credo che allegri non sia capace credo che adesso sia tardi per intervenire in questo senso poi la soluzione la deve trovare lui non possiamo trovarla noi non potete trovarla voi non la posso trovare io assolutamente la cosa che mi ha fatto specie due cose che mi hanno fatto specie di ieri di allegri sono due uscite in conferenza stampa totalmente inusuali la prima la premessa concedetemi a meno una volta di prendermela con l'arbitro comunque di far notare cosa ha fatto l'arbitro ossia il tempo di recupero effettivamente fine primo tempo punizione per la juve non viene fatta battere fine partita calcio l'angolo per la juve non vengono fatto non viene fatto battere se nel primo tempo si poteva anche pensare nel secondo tempo effettivamente c'era stata un'ulteriore sostituzione del napoli nei minuti di recupero ci poteva anche stare ma non è questo il punto non me lo sarei mai aspettato lo stesso da allegri che facesse un'uscita di questo genere evidentemente tante altre volte si è trattenuto è un uomo anche lui ragazzi si è trattenuto e non l'aveva fatto stavolta l'ha voluto fare l'altra uscita è stata quella di ricordare che il napoli è arrivato sì con degli assenti ma comunque con una squadra importante più che dignitosa effettivamente hanno giocato i tre che non dovevano giocare che sono tutti gli effetti titolari c'era mertens c'era insigne la squadra era abbastanza ben attrezzata direi al di là di tutti gli alibi che possa aver avuto per il covid per tutta la situazione che si è creata sia chiaro per la coppa d'africa ha ricordato che la juve all'andata alla juve mancavano sette giocatori lui ha detto perché non sono tornati da sud america in realtà erano cinque però mancava anche chiesa io sono convinto che non fosse alla ricerca di nessun alibi questa è stata una risposta dovuta al fatto che evidentemente gli è stato chiesto se la sentisse una occasione mancata non aver approfittato di un napoli rimaneggiato ha risposto in questa maniera ma onestamente non mi aspettavo che tirasse fuori la partita dell'andata si è umanizzato è venuto meno boh lo stile juve di non attaccarsi a scuse alibi volevano essere scuse alibi certamente sono stati uno spunto di riflessione non sono d'accordo quando dice che alessandro ha fatto una buona partita al di là dell'episodio del gol lì sul gol è stato totalmente uccellato da politano se non vado errato un avversario un giocatore della sua esperienza non può permettersi anche questi errori come non può permettersi di stare sempre a tre metri di distanza dalla persona su cui dall'avversario su cui dovrebbe andare a chiudere resto dall'idea che il suo tempo sia finito da diverso tempo e perdonate perdonate la ripetizione forse ieri un decilio a sinistra dall'inizio sarebbe stato meglio vi lascio con questo spunto di riflessione ce ne sarebbero altri ce li teniamo per il video di questa sera ciao a dopo iscrivetevi al canale lo state facendo sempre in tanti e di questo vi ringrazio di cuore ciao